Salute ragazzi e bentornati finalmente in questo secondo episodio di Mardoke Hazelous questa volta a Uruguay perché se voi non lo sapevate la linea 1 del metro di Milano riporta da Milano città dalla Lombardia Italia fino in Sud America esattamente cioè tra il sottore interno poi l'Atlantico si non chiede come farà però però ci riesce e dopo per tornare a Bonola rifà tutto l'Atlantico esattamente e torna fino a qua e sperassimo colpire un iceberg perché sennò cioè non vorrei fare capire perché voi non lo sapete ma voi quando siete in galleria tra Lampugnano e Uruguay passate sotto il Titanic e non lo sapete esattamente fai sotto l'Atlantico ci sono i fantasmi di Andrews e Marco che salutano la galleria, quelli peri però che noi siamo quelli falsi teoricamente si, ci salutano però che sono potenti che noi portiamo in auge loro ricordo esattamente poi c'è capitano Smith nella sua basca si è ancora lì che si fa il bagno esatto con acqua salata sicuramente tra l'altro facciamo una bella battuta ma sai ma te lo sapevi che le piscine del Titanic sono ancora pieni da lo sapevo adesso sono anche salate in agosto ci fanno il bagno ci sono anche le arciere c'è c'è anche la vita marina poi tra l'altro ha 5 nuovi passeggeri quei famosi milionari ah si vedo col Titan beh adesso sono insieme a Marco io adesso faccio qua una scommessa tra due anni esce un film su Titan ci scommessa non è possibile ma se non può finire la guerra russi-grina ci siamo effettivamente chiudere il cazzo Titan è una buona veronica ragazzi stiamo andando da Uruguay siamo sotto al Titanic esatto per sentire il rumore del tipo di Titanic io vedo se siete anche fortunati sentirete il capo fuochista che dice ai suoi impiegati di uscire prima che chiudono le porte e Mardo che chiudono le porte esatto siamo arrivati in America prepara un passaporto e adesso troveremo direttamente qualche americano il campo in cima la busta americana adesso giro la telecamera dai siamo in Uruguay la bellissima foresta uruguayana c'è anche Neck ragazzi allora qua siamo in Uruguay la busta americana la busta americana da qui controllo dietro di me e la Pepsi che è un animale un po' strano io farei una campagna per i diritti della Pepsi perché non è possibile che venga completamente soppiantata dalla Coca Cola perché non è giusto ma a parte quello è vero che cazzata onestamente qua il signore da denuncio ma come minimo adesso vorrei tanto dire al signor Robert Ballard che per scoprire ti dava stava andando lì cazzo passi sotto l'Atlantico fai un buco esattamente vedi tra l'altro questa stazione veramente ma sembra veramente siamo in America guarda guarda che bellici non sono io lo so si vede tutto bene in fondo dieci metri e mezzo dieci metri e mezzo dai proseguiamo proseguiamo adesso ci rivediamo direttamente fuori da questa stazione vorrei far notare le paratie marroni che si addicono proprio al Sud America perché Sud America è caldo ti fa venire in mente la sabbia la terra i deserti quindi questo mi sembra il colore giusto più tempo andiamo su e usciamo verso la foresta amazonica ragazzi stiamo per andare negli United States of America in Sud America siamo in Sud America signore tu ce l'hai? sì perfetto eccoci qua questa stazione è identica a Sesto Rondò però qua siamo in America Sesto Rondò siamo in Italia se ne conosco cazzo di niente oh oh ok ragazzi se avete presente Fallout 4 quando si esce dal volta uguale adesso succederà dal volo lato foresta amazonica come potete vedere il nome Uruguay ha azzeccato perché sono gli alberi comunque siamo la foresta razzolica qua forse siamo una piccola radura a mezzo la foresta sono di sboscato un pochettino eh posso notare una varia fauna che sono i piccioni che sono una fauna molto dei animi presenti qua nella foresta però abbiamo trovato i Caimani però dobbiamo venire tra poco adesso andiamo a cercare un lago esatto andiamo dritti andiamo dritti qua ce ne entriamo come potete vedere qua signori abbiamo una palma questo qua sono palme molto antiche ecco passa nel mezzo di solito adesso vi conto quanti milioni ne hanno queste tipo di palme questo genere di palme qua le accarezziamo gentilmente esatto probabilmente da qualche mi ricordo forse è tarbo di grasso quindi parliamo di 550 milioni fa signori questo hanno visto anche il Cretaccio probabilmente c'è le ere glaciali tutte compreso lo scogliattolino idiota che c'è all'inizio dei film comunque è un deficiente poi ci abbiamo visto sentire nella foresta come potete vedere gli indigeni l'hanno hanno messo a tornare per vedere la traversata più facile senza troppe complicazioni e adesso e adesso dovremmo andare vediamo quanto è dritto perché non c'ho un cazzo intanto non c'ho un cazzo nello stesso esattamente qui hanno tolto un po' gli alberi eh onestamente è una pantera a gatto è vero inquadriamola un po' esatto una pantera un altro gli animali esotici qui sono onnipresenti un altro animale di qui della foresta della foresta mazza uruguayana e ma per adesso tutto tranquillo non ci sono mai grossi aggiornamenti cosa ne pensate del galaldi io penso che per essere cresciuto così o si drogava o assumeva del cibo particolarmente afrodisiaco io penso che per era uno di quei bambini che da piccolo veniva picchiato all'asilo e se la menava una cifra e adesso siccome è in una posizione di potere come quella volta che Palpatine prese il controllo del senato allora devi poter fare quello che vuole ma si sbaglia esattamente perché lui dice eh se dovessero superare i nostri istinti voi sareste già fuori da scuola ma ma si sveglia ci dico io che se non dovessero superare i nostri istinti lui non avrebbe più la testa ah vabbè quello mi sembra ovvio esattamente quindi dovrebbe essere svegliato qui hanno anche asfaltato eh non va bene questa cosa no non va bene per un cazzo e siamo anche in sud cioè ci siamo spostati o qua però mi hanno rimesso un pochettino a posto si dai vanno bene allora ragazzi siamo qui sempre lui abbiamo preso la Pepsi la Pepsi americana è molto buona tra l'altro tra l'altro gli uruguayani la Pepsi la fanno di un bene cioè c'è anche quel retrogusto di foresta amazonica io sono qua sento proprio l'acqua in cui il caimano nero ci hanno dato dentro io mi sento fortissimo cioè è un superpredatore io mi sento proprio quando avevo la Pepsi mi sento il T-rex proprio magari dovevo andare in Nord America il 66 milioni anni fa il 68 il 66 magari al momento siamo già tra l'altro prende male anche il telefono quando no prende male sulle reti italiane però qua prende abbastanza bene ma qua il bradi potete metterla le comunicazioni cioè si esattamente si esattamente aspetta che giro a fotocamera ragazzi siamo qua con quello che rimane della della foresta amazonica come dire cioè la cosa struda è che dovevo essere in un posto con la biodiversità della madonna rapaci coccodrilli bradi pescimmie vabbè una certa diversità c'è però si tratta di auto più che altro sono auto e piccioni e basta poi guarda c'è l'asfalto rialzato l'asfalto vecchio e poi c'è quello con le radici quello buccato c'è veramente di tutto qui sicuramente sarà un nuovo substrato geologico perché nel futuro possiamo dire come il substrato dell'olocene per cui viviamo oggi e sarà tutto asfalto probabilmente il substrato ma cosa è il substrato di questo materiale ed è asfalto ragazzi io scommetto che quando salute salute Martok quando uscirà la cos'è la decima stagione o la undicesima di Mardok e Andrews questo pianeta sarà ridotto peggio di adesso quando uscirà la seccissima stagione avremo cinque gradi in più di riscaldamento molto probabilmente e la terra sembra la terra del mesozoico probabilmente cioè se se dai uccelli dagli attiratti non si formano non riascono dei nuovi speciali dagli uccelli perché sono dinosauri non so come sarà possibile si riformerà il brado primordiale no però speriamo che guarda tanto sarà sarà di litio il brado primordiale probabilmente il brado di dinosauri voi quali guardate siamo ripartiti dal punto di partenza esattamente in autobus non pensavo che ce li avessero in questa amazon ah in me non è un bus polacco però è un Mercedes dai adesso rientriamo giù in metro e torniamo in Italia e ricordatevi sempre signori i bus polacchi sono i migliori ecco lo signori il treno che ci porterà in Italia venga signor Mardok è arrivato il treno che ci porterà in Italia che ci porterà in Italia eccoci in Italia